Carmen Barile sarà la prossima protagonista della Provincia incontra l'autore. L'appuntamento è per venerdì 31 gennaio alle 17.30 in Sala Consiliare della Provincia di Rovigo. Scrivere questo libro è stata un'esigenza personale, ha detto questa mattina l'autrice alla presentazione dell'evento che si è tenuta in Sala Giunta a Palazzo Celio. Volevo dare un nuovo volto alla medicina, basato sull'ascolto. Faccio questo lavoro da tantissimi anni. Ho iniziato che avevo 20 anni come studente di medicina. Già facevo l'interno in oncologia. La cosa che ho notato sin dall'inizio è che il paziente ha necessità di essere ascoltato e compreso. Non vuole essere considerato una malattia o una percentuale di guarigione o di statistica. Il paziente vuole che tu senta il suo dolore. Chiede un rapporto empatico. Se riusciamo a creare un'alleanza con il paziente, c'è anche una maggiore aderenza alle terapie che andiamo a somministrare. Presenti questa mattina nel Palazzo della Provincia, Antonella Bertoli, presidente della Commissione Pari Opportunità, Carmen Barile, medico oncologo e autrice del libro, Cristina Oliani, direttore generale del reparto di oncologia di Rovigo, l'avvocato Monica Giordani, per l'UCID, e Maria Iside Bruschi, presidente della Lega Italiana per la lotta ai tumori di Rovigo. Il libro è una lettura introspettiva di personaggi, ha continuato l'autrice. Tra le pagine si trovano persone, anche medici, messi a nudo, reali, con le loro debolezze. Il dialogo avviene al bar, il luogo dove per eccellenza cadono tutte le barriere. Qui i tre personaggi si trovano e discutono, finalmente senza muri, della malattia. Appuntamento quindi venerdì alle 17.30 a Palazzo Celio.